Mr. Christian Suave, dopo la vittoria ai calci di rigore contro la Virtus in questa prima gara storica, ti chiedo se ti immaginavi un esordio così elettrizzante, emozionante, perché è davvero accaduto di tutto, già alla prima del caldiero tra i professionisti. Diciamo che questa squadra qua di emozioni ce ne dà sempre parecchie. La cosa importante per noi oggi, per me, era capire a che livello eravamo, a che punto eravamo, perché ovviamente era la prima partita ufficiale contro una squadra consolidata nei professionisti e al di là della vittoria ai rigori, che secondo me ha un'importanza solamente perché a noi ci permette di fare una partita in più, che forse ne abbiamo più bisogno della Vecom, non conoscendo il campionato, abbiamo fatto una buona prestazione, ha sparati meglio la Virtus, però penso che il risultato giusto sia il pareggio, cioè mi ha creduto fino a fine, che fa parte delle nostre caratteristiche e siamo stati premiati. Ti porti proprio via questo, questa reazione, questa voglia di crederci sempre che è propria del tuo caldiero, dove è stato l'anno scorso e si riparte un po' dallo stesso ingrediente, mister? Assolutamente, questo deve essere un punto di partenza per noi, noi dobbiamo capire che l'anno scorso abbiamo vinto un campionato difficile, probabilmente, ma lo sanno che i ragazzi non avevamo la più forte dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista mentale, della coesione e del fatto che non ormai eravamo sicuramente i numeri uno, questa cosa qua ce la dobbiamo riportare e ovvio che in questo campionato serve anche qualcos'altro, oggi qualcosina abbiamo capito, qualcosa ho capito, di cosa ci aspetta, però diciamo che anche chi è entrato, anche i nuovi stanno integrando molto velocemente, questo è l'aspetto più importante. Ecco, ti aspettavi subito un impatto anche da parte dei nuovi, magari stasera da citare anche come è entrato Florio, come è entrato Quaggio, anche i nuovi si sono subito calati in questa realtà. Sì, sono molto contento, diciamo che questo è un gruppo dove ci sono 3-4 chiocce che da quel punto di vista lì sono fantastici, quindi ti fanno sentire a casa dal primo giorno, ragazzi sono ragazzi squisiti che sono messi subito a disposizione di noi e anche di loro, quindi questo ha facilitato le cose, sono molto contento di chi è entrato, sono molto contento per Alessio che ha fatto il rigore, magari ci pensava ancora allo sbaglio dell'amichevole, ha fatto una grande partita, Mattia è entrato benissimo, tutti hanno fatto la loro prova, chiaro che ci sono delle cose a migliorare, lo sappiamo, ce ne sono parecchie, godiamocela, rimanendo qui piedi per terra ovviamente.